liston evidenzi ha Va santo marina la X no a prender ad E si puso da papà e sai di che la sei a tre stora. Allora è per chi? Quando che vado mie, quindi sempre passami la mamma. Non so cosa che ti faria, ma perché incappa la gamba. Pronto? 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 Adesso? Non ti sento? Guarda, sono mille, che l'ora che so! Anche noi, come dire, da in su, da Mattaraciti, un piccolo pagino vicino a Trento, non Fiat Agnale. Egole, una volta, in Tauro, che è in Isbano. Ma guarda che di nessun seminito che Agnale è quel della Fiat o no? Egole, guarda qua. Solitos, da anni no donne, no cocco, no... No, 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 no le hai parito, Teresa. L'occhio è qui, con la scoglietta spagnoletta, tutto spartire. Teresa, Teresa, è un assolto a questa storia della spagnoletta caliente. Si, tu hai detto, poletano. Sono sposato, Teresa, tengo un'uiera. E il paletto della buonanotte, qui era la buonanotte, sì? A me non è piossa, bozazzo a te. Preferisco stupare il porto della morte. E dai, non la paga la preziosa, la guarda che mi è un uomo da anni. Mi è toccato proprio, sì. Sta, penso meno, no, se siamo un valetto prima di provistarmi. La galassa è una nottana a scherzi. La riscusa allora, ho sentuto la vozzia, è che la portano aperta. E a dire che mi senti qualcosa? Buonasera, sono la vizina da casa. Ho i caderni dei denti. Eccola, è la bella truccata di mare. Ma se ti manda qua quando ti hai fatto riposare, è passato un'ombra per domandare a partire. Dimmi, chi è l'uomo? Il Zeppolucino Bruschetti. Luigi no Bruschetti? Luigi no Bruschetti. Ma domandate se ti gustava l'idea di... E tu mi arranghiati a 30, trappacando il suo locale, il dino si è assicurato. E ti sapendo quanto ti è strangoso che ti tengo a farmi una casa, che in una gnappa serrata, dopo un malaccavo sempre la gnappa da me, dopo un malaccavo, e quanto ti tratta di parlare in serio? Poschino va? Ascolta, è passato di qua, è fratello della Lucia. Il Luigino? Ti conosci tanto a te? Se ti lo viene una volta in citato la Lucia, so che lavora in Londra. Ecco, ascolta, se vuoi piantarti tu, venire a 30 e mettere sul locale. Si, cosa c'è da tu collegino? Lasciami finir, ascoltere bene. E il vuoi che venire a 30 e cammin, e che ti dai alla va? Lassare il tuo lavoro al ristorante. Serto. E tornare definitivamente? Si, c'è un primo errore, guarda che male! No! Gesù! E' un primo errore, guarda che non è un primo errore, guarda che non è un primo errore, guarda che non è un primo errore. E di confermare che è che stava a casa, e che è un errore, guarda che non è un errore. Se io guarda, è un errore, guarda che non è un errore, guarda che non è un errore. montagna tuta bella jaa ghana jaa ghana nu pon eh Dove ne? Dove ne? Dove ne? Dove ne? E riva! E riva Nola! E riva! Oh no! Oh no! Oh no! Non ti parlo di prestati assai! Eh? Non lo sa ne in vivo! E te ne pari come agitata, madame! E perché mai? Te ne pari come sono due! Ogni volta che ti vuoi da nonna, ne pari sempre come la prima notte di nozze! E mi sento strana! Agitata e timidina! Ma Marta, ma pensa! Che adesso mi sarà più! Te rientri di agitazione! Pensa! E ti prometterai la sera con me! E te sveglierai la mattina con me! Te ne andai ancora la sera! 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 Ma al bagno! Poderò che la risulta! Non lo sa ne andai ancora la sera! Non lo sa ne andai ancora la sera! Si no andai ancora la sera! La mia poppa, la gara simpatia? Sì, ora, mi pare, Bessera! Quanto è Daniela? Direi i 5 mesi. E non ho prescritto! Ma questa cosa, premedete una agitazione? Prima di volere in Velles è la quale giusta! E è è è che la posta! Mi hanno chiamato messo l'annuncio sul giornale. E chi è, Lopco? Il mio professore di chimica! ...chiamora, bella professore! Piscina mia, adesso la tua mamma che ti ha bisogno di ti dopo tanti anni. Ma perché se il baga e pianghi non mi sono rimesso a portare tutta la città ma zitta. Alberto non so come dirte, non la trovo le parole. Ma per l'essertico è che ti devi dire che sempre parli a tutti. Ti che te dormi dopo tanti anni e te trovi la tua mamma. Ma io la mia mamma la trovo benoccele per cui... E infatti stavo benoccele. E allora devi, radico quasi tutti. No, mi... Mi ne... Mi ne... Mi... Mi sposto! Ma dico ma puciamo tutti gli stessiti? Ma elu chi è elu? E ciao, mi travi... E, e... E elu? Me marì alberto di Colossi. Ma dove eri dobbia per l'Inghilterra, eh no? Sì sì allora, non so come... Allora. Cosa ti ricorda? E elu? Si è elu? Ehi, ero! Stordati! Ehi, lo costa! Non l'è conviene il Raffanasco, ho dopo tutte quelle pause! Ma è la sussione? L'hai venuta da tu e un mesi che fa per domandarvi di chi... Pronto? Pronto? A sskele, signora? Sì. Un attimo, che ti passo. e il Michele oi coccate il Michele dammi qua ehi la Michele c'è un figlio in portiere non mi ricordavo degli amici come lo ha con le nebbie poi ce la cambia qui verso e lì 30? chi? mamma donna che ho fila di un come su noi o tre in tutta di fatta gli ha passato il titolo da per tu mi sono qui con la perpuno sempre non è ma roba e non la mamma donna e cosa ha ragionato io invece? da cosa? dite la mamma donna dite la mamma donna dite la mamma donna peggio mamma donna non te lo dico dimmi e la giacca fermo le oala la giacca la giacca sa ti bella a tutti e mi ha distrutto come Lord Smith come un po 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 guarda guarda chi ha un discorso dimmi guardate se ti vuoi chiamare in quel posto gli ha colta chiamate su un sottile in un ristorante noi l'ha colta no 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 ora caro Michele ormai la vita d'immigrante le sole caro le cocco dai ascolta telefonemi ancora ma quando te mi chiami ciammi versavo di sera che te spesi di me hai capito? e non staspe tassi tanto però telefonami mi ti sentivo in terra sa? ciao Michele e mi chiami o te la cosa sono di me anche a sottile il bieletto il bieletto e la cosa sì certo che io andando a cuore adesso senza un camerier odio camerier calma ero qui che è comandato eh? con stipendi da camerier E anche l'inglese non era valido e la vedo di che vado a finire che perdo ormai chi non si parla a tutti o a nessuno. Il primo è il mio lavoro, calmo, tranquillo, il mezzo è il mio, caro Michele, io resto qui, here in Trientano Michele, mi dispiace.